Primo spettacolo Diamo il benvenuto ad Enzi che è in studio con noi Ciao, buon pomeriggio Grazie, grazie a voi dell'ospitalità, un piacere essere qua Un piacere anche per noi Senti, l'album sentiva Rocksteady Che può avere tanti significati Subito viene in mente il genere musicale Rocksteady giamaicano Che in realtà troviamo poco all'interno del disco Credo che abbia un'altra accezione Sì, assolutamente Se tentiamo di tradurre gergalmente Rocksteady Significa l'incessante capacità di spaccare qualcosa di duraturo nel tempo E mi sembrava l'aggettivo migliore per descrivere la mia attitudine Ora in un momento così favorevole per questa musica in Italia Questo è un disco che rappresenta un po' l'evoluzione coerente della mia musica Quindi non sputa nel piatto dove ha mangiato fino adesso E tenta di fare una cosa che sia un'unione da più fronti Infatti il disco è un buon equilibrio fra robe più hardcore Più settoriali se vogliamo E robe anche un po' più poetiche Chi conosce un po' la mia discografia sa che mi ha sempre contraddistinto questa cosa Mi piace l'hip hop in tutte le sue forme Quindi questo genere musicale è fantastico E mi ha coinvolto da quando ero alto così Perché ha un brano e un'identità musicale per ogni emozione Ogni sensazione Quindi sarebbe, secondo me, stupido Nascondere alcune parti della propria vita Quindi ci sono dalle mie debolezze come uomo Alla vita di tutti i giorni Ai sentimenti A tutto Costanza e cambiamento Il cambiamento c'è anche dal punto di vista così tecnico e strutturale Perché è il primo album che tu pubblichi con una major Sì Ha cambiato anche qualcosa, diciamo, nell'atteggiamento della scrittura oppure... No, no, diciamo che arrivo oggi dopo dieci anni di gavetta Chi conosce l'ambiente lo sa, ci sono da un po' Gira da un po' il nome di Encex Ho fatto a spallate tra i nomi con le gare di freestyle Mi sono guadagnato il rispetto della vera scuola dell'hip hop italiano E poi, oggi come oggi, mattone su mattone Riesco ad avere, per quanto sia alto il mio muretto Alto così io non lo so, però è un muretto solido Quindi arrivo oggi dopo tanta esperienza a una grande multinazionale Che è la Warner, che ha creduto tanto nel progetto Mi sono trovato bene, ma quella visione anacronistica Un po' che la major ti cambia, ti impone di fare delle cose diverse Un po' appunto anacronistica Famoso anni 90 addirittura Era una questione superata negli anni 90, ogni tanto ritorna Ogni tanto ritorna, soprattutto nell'hip hop Che ovviamente è un genere che fino a qualche anno fa Insomma, l'hip hop è una grande storia Però detto questo, a livello mainstream, diciamo in canali un po' più Alla vista di tutti, alla portata di tutti C'è da neanche dieci anni, se vogliamo In maniera così massiccia Quindi era doveroso per me fare un disco Che mantenesse comunque una grande identità E non lo faccio perché volevo farlo apposta Per farmi dire bravo, hai fatto un disco hip hop con una major Ma perché sono fatto proprio così Quindi non poteva essere altrimenti Senti, la collaborazione con Patrick di Casino Royale Quando loro hanno iniziato la loro carriera Tu neanche avevi iniziato a fare freestyler No, assolutamente Non avevo né idea di cosa fosse l'hip hop nella sua totalità È un mondo che quando poi inizi ad addentrarti Se ti coinvolge, ti coinvolge in maniera totalizzante Perché è veramente una cultura fantastica E chi si affeziona al genere musicale Io consiglio sempre di andare a scavare nel passato Oggi che si può fare a portata di click Sarebbe davvero stupido non farlo Quindi collaborare con Patrick di Casino Royale Che lui è anche poi voce dei Bluebeaters Quindi insomma stiamo parlando di gruppi della musica urbana davvero importanti È stata una bella soddisfazione Poi questo brano nello specifico ce lo siamo vissuto proprio assieme in studio Dall'idea della base per la quale avevamo solo una bella batteria E una piccola melodia Lui è arricchito con tutti gli strumenti suonati dal vivo Le tastiere, il basso, la chitarra Tutta roba sua E poi insieme a Simone che ha prodotto tutto il disco Abbiamo dato vita al brano Ci sono altre collaborazioni Quali vogliamo ricordare? Ma guarda non sono tantissime Quindi ce la faccio ricordarle tutte se non mi perdo Allora c'è Jacoto Che è una cantante tedesca Che ascolteremo dopo Perfetto quindi allora ci riserviamo qualche parola più tardi Salmo Enoiz Narcos Che per chi ama l'hip hop italiano Non hanno bisogno di presentazioni Quello è il pezzo più underground Sì direi uno dei più cattivi Ecco più tosti E poi c'è Andrea D'Alessio Che è questo ragazzone che ha fatto X-Factor l'anno scorso con la barba Faceva il beatbox Bravissimo Che canta nel pezzo se non con te Che è uno dei più emozionali dell'album Poi c'è Giulia Lenti Che è una grandissima cantante Brindisina Arriva dal movimento del reg Molto rispettata Molto brava Conferma anche del mio vecchio disco Perché c'era anche In Era tutto un sogno Quindi questa è più o meno La formazione di Rocksteady Invece Rocky e Adriana chi sono Cioè chiaramente quelli che rimandano l'immaginario del film di Rocky Ma mi sembrava una buona chiave di lettura per fare un brano dedicato alla mia compagna Diciamo che rappresentano un po' l'emblema della coppia con un amore riservato pulito Che non sia tanto sotto i riflettori Oggi come oggi magari in quest'era dei social Le coppie si paragonano a Jay-Z e Beyoncé A Victoria e Karen West A Kim Kardashian Queste robe qua Esatto Vittoria Beckham e Beckham Invece loro erano una coppia forgiata dagli avvenimenti della vita Che li hanno portati a essere uniti in tutto quello che poi è successo E ci sono dei piccoli parallelismi Io sono cresciuto Arriviamo entrambi da delle periferie di città diverse Io sono di Torino La mia compagna di Milano Però diciamo che il parallelo ci stava Poi Rocky è stato un parallelo fighissimo nel rap Nel senso che l'hanno utilizzato tutti Stracampionato anche per delle grandi hit La colonna sonora è stata prosciugata dai producer dell'hip hop Però con questa chiave un po' romantica Drama love Questo nuovo genere che ho creato io Quindi tutti i neomelodici all'ascolto tremate Perché questo genere drama love prenderà piede tra poco in Italia Molto presente il beatbox Sì mi piace perché sono cresciuto facendo freestyle sul beatbox Non ho mai avuto un amico bravo In copy in due senza strumenti Senza niente Sì poi questo è il genere più facilmente riproducibile del mondo Street style vero Sì se vuoi fare una band Devi quantomeno comprarti una chitarra Una batteria e saperla suonare Motivo che poi porta magari a non avere Magari anche da parte di chi si approccia a questo genere Magari una scarsa voglia di andarsi a ricercare le cose È così facile da fare In realtà l'hip hop è una grande storia Il beatbox Tanti produttori l'hanno sempre utilizzato Beh mi viene da citare Doggy Fresh Che è uno dei più grandi beatboxer del mondo Da sempre super old school In questo brano per esempio c'è Rise Che è questo ragazzo di Milano Molto bravo molto giovane Che fa benissimo il beatbox Ma per esempio il Rocksteady Che è la title track di questo disco C'è Alien D Che è uno dei beatboxer più famosi d'Italia Uno molto bravo insomma Che ha messo a dura prova anche beatboxer Come Razel Che è uno dei più famosi del mondo Che una volta ad uno show si narra Che facendo le prove lui abbia sentito Alien D E gli ha detto no tu suoni dopo Perché se no mi scami qualche trick Cioè il beatbox ovviamente è stato utilizzato Come uno strumento musicale È stato quasi campionato Un po' alla Timbaland se vogliamo A me invece che sono anziana Mi è piaciuta la citazione di Fred Buscaglione Guarda in realtà Non vorrei sciorinare cultura che non ho Mi ricordavo quella canzone nello specifico Mi ricordavo quell'immaginario lì E secondo me ci stava bene Perché il sinistro da un quintale Insomma era figo Aveva quello swing giusto quindi Doverosa la citazione Quindi cose vecchie non ne senti Ma no diciamo no Sono un fan in generale della musica black Ho avuto la fortuna di avere a che fare Fin da giovane con gente che mi trasmettesse Un grande amore per i dischi Però come dicevo prima L'hip hop mi ha totalizzato Mi ha spaccato la testa in due come un cocomero Quindi mi sono perso per strada Un bel po' di bella musica Però c'ho tempo A proposito di emozioni A livello di scrittura Le tue emozioni centrano tantissimo in questo lavoro Come ci hai lavorato? Ma ho tentato di fare un disco Che fosse rappresentativo Delle varie sfaccettature del mio fare il rap Quindi non potevo nascondere delle cose E dimenticarmi qualche pezzo Nel senso che spesso visti da fuori i rapper Sono quelli o tutti arrabbiati O tutti festaioli O tutti Cioè in realtà no Non è così Siamo tutti Tutte persone Cioè io vivo nel 2014 in Italia Vado per i 30 E quindi insomma Vivo la vita di tutti i giorni Quindi non potrei omettere Determinati tipi di sensazioni Questo non è un disco molto dogmatico Dove c'è il pezzo sociale Il pezzo per gli amici Il pezzo per il party È un disco dove ho tentato di Anche perché chi conosce un po' la mia discografia È sempre stata ricca di contenuto Ho cercato di fare un disco che fosse In realtà Anche quando l'argomento è definito Come in eroi In realtà in eroi si parla di più cose Quindi ogni brano A parte tipo Rocky Adriana Che ovviamente ha quel filone lì O altri come Stratocaster Che sono una cozzaglia di rime Belle crude Su una base super hardcore Insieme a due grandi rapper Come Noise e Salmo Il resto del disco è comunque Un'unione di cose Quindi c'è un filo conduttore A livello musicale C'è un argomento di fondo Ma poi si spazia Cioè ogni argomento Mi serve quasi come Il centro di un brainstorming E poi attorno Ci ho costruito la canzone Quindi Anche in VIP Dove parlo delle persone care Facendo il parallelo Con quelle che sono le persone Veramente importanti Agli occhi di tutti O in Eroi Eroi parla un po' Di questo discorso Dei cantanti Visti come Dei supereroi Visti come Coloro che ci insegnano E ci trasmettono tanto A me è successo così Mi succede tuttora La fascinazione Che si prova Quando sono triste C'è una canzone Per non esserlo più Quando sono felicissimo E voglio copirmi C'è un'altra Quando sono incazzato col mondo Né un'altra ancora Però E poi alla fine Nel senso Quando dico Mi vedono sul palco Vorrebbero mettermi Una S sul petto Come se fossi immune A tutto In realtà non è così Al limite Una E sul petto E poi ci sono tanti artisti Che poi in realtà Si lasciano trascinare Dal successo E si perdono per strada Come canto in change E dico Gestire i risultati È anche più duro Di ottenerli delle volte Mi basta pensare A grandi nomi La Jackson Piuttosto che altri Che purtroppo hanno Distrutto la loro carriera Per altri motivi Quindi è un po' Ecco Un ritorno ai valori Ma non perché Io sia un boy scout E voglio essere per forza buono È perché sono fatto così E Il hip hop Che mi ha cambiato la vita E che mi ha fatto innamorare Di questa musica Viene da quell'ambito Quindi che mi abbia fatto arrabbiare Che mi abbia fatto ragionare Che mi abbia fatto Sognare per un momento Era un hip hop Che diceva qualcosa E quindi Allora siamo proprio in chiusura E ci lasciamo su note Di VIP La canzone Con il featuring di Yakoto Due parole su Yakoto Però possiamo dire Sì certo Beh Yakoto è questa cantante Fantastica Appena sentirete la sua voce Sembra veramente Ritorno al futuro Sembra che arrivi Dai grandi tempi Del Grand Soul È una cantante fantastica Quando mi è stata presentata Da Warner La possibilità di collaborare Con lei Che ricordo è tedesca Di origine ganese Black voice Fantastica Io avevo già consumato Il suo disco Che si chiama Baby Blues E lo consiglio a tutti Perché è veramente Un trend di ogni cosa Ed è fighissimo E gli abbiamo mandato il testo Gli abbiamo mandato Un accenno di melodia Di come ce l'avevamo immaginato noi Lei ha fatto tutt'altro Ma mi ricordo La prima volta Come fosse ieri Quando ho messo le cuffie Ho aperto il file E mi sono dovuto tenere E ho detto Cavolo Questa ha spaccato tutto Infatti sono contento Che insomma Molti feedback positivi Arrivano per questo brano Che poi ha Sì Il suo significato Ma anche una bella identità musicale Quindi sono molto felice Nella totalità Grazie a Denzi Grazie per stare con noi E ci rivediamo presto A Radio Città Futura Sicuramente Ciao Ciao Ciao